Il mio papà supereroe, un supereroe è il mio papà, si mette il mantello e voilà, sa fare tutto e va a lavorare, gioca con me e mi fa volare, cucina la pasta col pomodoro, la mia preferita ed è un tesoro. E quando si mette il mantello invisibile a nascondino è invincibile, però la sera succede un fatto strano, appena si siede si addormenta sul divano, ma io da solo ho scoperto il perché, un papà come lui al mondo non c'è, ti voglio bene papà!